caro saluto a tutti i tifosi della b i quali hanno quest'anno riempito di nuovo gli stati alcuni hanno gioito alcuni hanno pianto però importante soprattutto amare i colori e la maglia chi è retrocesso sicuramente il prossimo anno farà di tutto per tornare in serie b e chi è andato e chi è stato promosso sicuramente fare tutto per rimanerci quindi il campionato serie b è una cosa meravigliosa soprattutto per i tifosi quindi forza serie b e complimenti a tutti